Siamo con il presidente Massimo II, una prova Arcelli che esce dal picco con un risultato molto pesante però nei primi 38 minuti si era vista veramente una grande squadra. Cosa è successo dopo? Ma credo che ormai sta diventando un live motive di questo girone di ritorno. Credo che la squadra messa in campo dal mister ha fatto una grande partita fino a che non sono intervenuti fattori esterni che l'hanno poi pesantemente condizionata. Perché fino a che siamo rimasti in 11 contro 11 abbiamo preso due gol, uno su una palla ferma ci può stare e uno se l'avete rivisto un passaggio sbagliato che sbatte sulla schiena di un compagno del giocatore dello Spezza e va a finire a un giocatore dello Spezza libero davanti alla porta. Sono due gol che si possono prendere. Poi quello che è successo dopo e quanto è differente da quanto siamo abituati a vedere al Piole sotto gli occhi di tutti. Perché Fabiano è stato espulso come da tradizione per i giocatori della Prova Vercelli per due falli veniali. Cosenza siamo in attesa di scoprire il mistero perché nella tv nessuno sa per quale ragione sia stato allontanato dal campo. Il rigore che è stato dato allo Spezia non lo so ma diciamo che va rivisto in televisione si dice sempre così quando non si vuol dire che è una cosa senza senso. Dopodiché francamente diventa una partita incommentabile. Io posso dire che per tutto il primo tempo ho visto una Prova Vercelli in palla, una Prova Vercelli che ha lottato alla pari con una corazzata come lo Spezia. Ci sarebbe piaciuto come dire benché rimontati eccetera ci sarebbe piaciuto arrivare alla fine 11 contro 11 e come dire senza interventi esterni. Magari i tifosi a casa si chiedono se la posizione di Scazzola traballa ma noi ribadiamo la serenità della società nei confronti del mistero. Guardi nella maniera più assoluta perché la mia analisi della partita gliel'ho fatta finché abbiamo potuto giocarla alla pari abbiamo fatto secondo me un'ottima partita. Quindi Scazzola non solo non è in discussione adesso ma Scazzola arriva alla fine dell'anno e non soltanto ma c'è un anno di contratto anche l'anno prossimo. Quindi chi ha queste idee strane si metta il cuore in pace che Scazzola rimane con noi. Adesso invece c'è però da preparare un'altra gara delicatissima contro il Brescia quella di sabato non ci saranno Cosenza e Fabiano però è sicuramente una gara che la Pro questa deve per forza vincere. Noi sappiamo che abbiamo 14 finali sappiamo che in queste 14 finali dobbiamo fare 16 punti e giocheremo tutte le partite alla morte come abbiamo giocato questa finché ci è stato consentito di farlo. Come dire speriamo io sono come dire assolutamente convinto che non ci sia nessun disegno e quindi credo che primo dopo in qualcuna di queste partite incominceranno ad espellere per doppia munizione anche dei nostri avversari che hanno commesso falli veniali. e incominceranno ad espellere dei giocatori in maniera come dire dove nessuno capisce perché non si vede in televisione non si vede niente e probabilmente questo andrà a riequilibrare delle situazioni a darci qualche vantaggio che in queste prime otto partite è stato clamorosamente concesso a molte nostre avversarie. Ringraziamo il Presidente Massimo II